Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi Zorzi sarà opinionista al posto di Elettra Lamborghini, quindi lasciandole il posto appena sarà guarita, o alla fine rimarrà e saranno in tre. Al momento non dovrebbe essere un semplice sostituto, quindi non abbandonerà la nave appena arriverà la Lamborghini. Si parla di tre opinionisti quindi, un trio niente male tra l'altro, ma ci sarà spazio per tutti. Sono tre personalità abbastanza forti e predominanti, e lo è altrettanto Ilari Blasi. Una cosa è certa, il pubblico di Canale 5 non vede l'ora di vederli all'opera tutti insieme.